Le visite per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, indenità di accompagnamento, handicap e disabilità in Abruzzo sono vere e proprie odissee vissute dall'utenza. I ritardi, la carenza di medici e la disorganizzazione si traducono nel dato di migliaia di domande in evase. È stata presentata un'interrogazione dal segretario regionale del Partito Democratico Michele Fina al ministro della Salute Orazio Schillaci. 10.000 pratiche solo nell'ospedale Santo Spirito, vogliamo sapere qual è la situazione nelle altre asla abruzzesi e io ho chiesto al ministro direttamente, ho fatto un'interrogazione perché qui non parliamo di numeri o di statistiche, parliamo di vite, di un diritto in evaso, di una disattenzione grave da parte della regione. Il presidente Marsilio evidentemente è in altre faccende affaccendato, più legate a questioni politiche del suo partito, ma le abruzzesi e gli abruzzesi, soprattutto coloro che sono in maggiore difficoltà, attendano per mesi, a volte perdono prima la vita, prima di avere un diritto riconosciuto, in particolare per quel che riguarda, oggi lo abbiamo detto, le invalidità civili. Il senatore Fina ha poi rimarcato che lo scorso 18 novembre c'era stata la visita ispettiva del consigliere del PD Antonio Blasioli presso l'unità operativa complessa di medicina legale dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, il quale ha poi sintetizzato i dati in una risoluzione inviata il 28 novembre al presidente della quinta commissione sanità, chiedendo che divenisse oggetto di discussione nella prima seduta utile. C'è una disorganizzazione, c'è una mancanza di commissioni in numero adeguato, quindi c'è una lentezza, perché queste 10.000 pratiche accumulate vanno crescendo, non diminuiscono. C'è da intervenire sugli spazi, c'è da investire sulla sanità e sulla salute. E mentre noi diciamo questo, si sta discutendo di autonomia differenziata nel Paese, il che significa dividere questo Paese, soprattutto dal punto di vista fiscale e economico. Fondamentale anche l'interlocuzione con l'Inps affinché la procedura informatica che gestisce le pratiche contempli un ordine cronologico. Sarebbe opportuno che il sistema dell'Inps, decorsi i nuovi mesi per la definizione della pratica e gli ulteriori sei appena di decadenza, consentisse quantomeno all'interessato di presentare una nuova istanza.